agli ordini al start tutto è pronto, Sankir chiude favorito, partì non brillante Under the Night Sankir prova a scendere in corda su Kati Egane che rimane con l'uno di steccato lì nella sua scia e Branca riesce con gradualità a andare davanti accompagnato da Avatar Start, Kati Egane è terzo in corda quindi e precede Phenon, Under the Night poi Joy The Way ed in coda Inesplicable Sankir come è previsto davanti su Kati Egane a largo Avatar Start il terzetto conduce su Phenon che precede Inesplicable Joy The Way in coda Under the Night sulla curva Sankir non ha sgranato nessuno in questa parte del percorso e Avatar Start è lì insieme a Kati Egane poi Phenon e Inesplicable quando si entra addirittura Sankir inizia ad allungare a 600 metri dal palo a due di vantaggio su Kati Egane che all'esterno Avatar Start poi Inesplicable che precede Phenon Under the Night Joy The Way Sankir prova a allungare da Kati Egane che è l'unica minaccia per ora poi Inesplicable Avatar Star gli altri tre appartengono per il momento all'altra corsa Sankir e Kati Egane poi Inesplicable e Avatar Star con Sankir arroccato in corda Kati Egane è secondo per ora insieme a Inesplicable poi Avatar Star nel finale Sankir allunga e rifinisce il tutto 1.19 potrà sembrare poco ma tecnicamente valeva quelli Kati Egane come unico avversario arriva a seconda terzo Inesplicable 6.5.4 l'ordine d'arrivo di questa prova come anche il pronostico di Trott e Tarf lasciamo a intendere con la trio in ordine e 6.5.4 paga 6.05 la trio 5 volte la posta è quello che paga al momento quindi vince Sankir con Fabio Branca secondo Kati Egane terzo Inesplicable quarto dovrebbe essere rimasto Avatar Star 6.5.4.1 l'ordine d'arrivo per il momento è tutto dalla postazione centrale studio di Lucca o pista per il campo è tutto per il momento